Ciao! Ciao raga! Ci siamo! Video, credo, aneddoti cucina? Bah sì, facciamo aneddoti cucina, visto che per alacciarci all'ultimo video dell'esperienza di otto anni avete scritto in molti, mi fa molto piacere ovviamente, avete commentato in tantissimi, quindi direi che si può partire da questo. Adesso scusate la forma come vedete dagli occhiai, il sonno è molto presente, io sono già armato di caffè e drummozzo pronto e si parte con un altro video racconto. Ovviamente, per piccola premessa, mi fa molto piacere che mi stiano facendo i video sull'altra ripetizione e non credevo fossero così incredibili, soprattutto senza montaggio, senza nulla, copertine, descrizioni, niente. Cioè, sono proprio video raw, video grezzi puri e c'è un senso, non è che è una scelta artistica, stilistica, contenutistica, è semplicemente che non so editare i video e giustamente se ti affidi a un editor deve e vuole essere pagato e YouTube non genera abbastanza soldi perché io possa permettermi di, diciamo, video editati, carini, con magari anche dei momenti comici, con i tagliati. Quindi capisco benissimo che possono essere magari un po' fastidiosi, però vi chiedo perdono, l'ho fatto, l'ho fatto per tre anni, quattro anni di YouTube, non con questo tipo di video, con altri che vedete sul canale, che sia, che fosse stato l'intervista o il gameplay o la settimana sul Rust, il Best Of, eccetera, però fondamentalmente il canale YouTube è sempre rimasto, ho fatto tipo diecimila iscritti in quattro anni, che, per amore del cielo, sono tantissimi, soprattutto per uno che non fa video specifici su YouTube, però, insomma, comunque tre, quattro, cinque video al mese so sordi, eh, come diceva il buon macio. E quindi ho scelto qualche tempo fa con Rings of Powers e poi dopo di provare questa nuova versione, che alla fine secondo me è carina, è comunque un contenuto esclusivo per YouTube, si distacca dal Just Chatting, può essere comunque ascoltato nel chill, la sera, in giro, insomma, un po' come vale, è uno podcast, non è tra l'altro proprio un podcast, però lo chiameremo uno podcast, buonanima uno due podcast, e comunque, scusate, la premessa, grazie ovviamente, il sunto è grazie, mi fa molto piacere che vi piacciono i video e continuerò a farli, anzi, ho già annunciato il live che prenderò un giorno libero a settimana, proprio per fare i video, che in questo caso è oggi, giovedì, togliendo un giornale live, perché altrimenti non riesco a fare tutto e finisce come quando ho iniziato con Rings of Powers e gli altri due, quello sul conflitto di interesse e su Wukong, perché poi alla fine fai sette, otto, dieci ore di live al giorno, ma anche se sono sei o cinque e finisci, io personalmente non ho mai le energie proprio, non è neanche tanto questione di voglia, è proprio dire le energie per mettermi a riparlare altre due ore dopo averne parlate cinque, sei di fila, di cui tra l'altro tre o quattro di just chatting, di solito, su Twitch, e non ce lo faccio, cioè proprio arrivo la sera che sono distrutto, anzi, spesso e volentieri quando esco la sera tipo per, insomma, una scena con amici e ve dicendo, non trovo neanche le parole, cioè non mi vengono fuori le parole perché ne ho buttate talmente tanto durante la giornata che la sera preferisco ascoltare, sono un buon ascoltatore, vabbè, comunque, grazie, grazie mille e basta. Allora, video aneddoti di recuscina, in realtà io non mi sono preparato un cazzo, come sempre, nel senso che andrò a braccio, a memoria in questo caso, visto che si parla appunto di ricordi, e saranno episodi che io reputo strani, divertenti, simpatici, particolari in qualche modo, ma che magari per qualcuno di voi potrebbero non esserlo, potrebbero risultare cringe, offensivi in qualche modo, però io ve li racconto così come come li ho vissuti e come li ricordo. E direi, secondo me, pensandoci adesso, conviene fare una sorta di tipo di timeline, nel senso di partire dall'inizio per poi arrivare alla conclusione e i vari step nei vari luoghi, i ristoranti, riprovare a ricordarsi qualcosa, secondo me, secondo me la cosa più carina è quella, cioè la cosa più facile in realtà. E se non l'avete visto, il video scorso è riguardante appunto l'esperienza in cucina, quindi comunque vi citerò magari, o vi ripeterò velocemente qualcosa che vi ho già detto, in qualche contesto, comunque fondamentalmente io ho fatto, ho lavorato in Italia, in Austria e in Australia, ok? E un po', insomma, in maniera un po' alternata, a parte l'Australia che sono gli ultimi anni, e direi di partire dall'Italia, che è il ristorante appunto di Franco Nanipieri, dello Chef David e tutto quanto, ma in realtà in quel ristorante lì, so, si parla di tanti anni fa, perché si parla veramente di 14 anni fa, più o meno, no, sì, mi pare fossero 14 anni fa, e però molti c'erano, non sono tanti, ma non sono neanche pochi, a volte, insomma, a volte non mi ricordo come mi chiamo, figuriamoci, e in realtà quel ristorante lì, l'esperienza durò poco, e di aneddoti particolari, vi ho raccontato il video scorso, il tipo che si spaccò gli occhiali davanti a me, allo Chef, il proprietario del ristorante, mi ricordo, ah, mi ricordo che ci fu un mio tilt a un certo punto, durante quell'esperienza, perché, tipo, fu proprio la mia prima, erano un lavapiatti, e eravamo io e lo Chef, il pizzaiolo, come avevo detto, però ogni tanto veniva questo ragazzetto di 16 anni, che era il figlio del proprietario del ristorante, a dare una mano, tipo, boh, fare due ore a settimana, così, giusto, perché il padre voleva insegnargli il lavoro, no? Però, spesso, 20 anni faceva più danni che altro, e io mi ricordo, e lo racconto perché è poi, diciamo, una sorta di costante, almeno nel mondo lavorativo, in cucina, ma penso un po' in generale, nella vita mia, e, mi ricordo che una volta rosicai tantissimo, perché a me lo Chef, con me lo Chef David, nonostante fosse anche il mio amico al di fuori del lavoro, giocavamo a Battlefield, fumavamo joint, fino alle 5 di mattina insieme, proprio, nel mega chill, e ci ritrovavamo, tipo, un'ora prima del lavoro per fare dukihack, insomma, piano piano nacque un bel rapporto, che poi abbiamo anche, tra l'altro, portato avanti, e che sono ancora in contatto e ci schiamano sempre, uno dei pochi, tra l'altro, nella mia vita con cui ho tenuto contatto, ma lo vedo un po' come un papà, insomma, la persona che mi ha iniziato al mondo della cucina e che mi ha dato la possibilità, poi, di fare le mie esperienze e di arrivare dove sono, grazie alla sua pazienza e alla sua buona volontà, e per quello gliene sarò sempre grato, poi, l'ho detto, lui sta adesso a Bangkok, spero un giorno di ribeccarlo, e niente, praticamente rosicai, perché, appunto, questo ragazzetto, che era il figlio del proprietario, tipo, 14 anni, aveva 15 anni, veniva ad aiutarci due rette a settimana, e io mi ricordo che una serata, dove sputammo sangue, veramente, e diede il tutto e per tutto, in maniera distruttiva, lo chef David, a fine serata, fece i complimenti a questo ragazzetto, e gli diceva, sei stato bravo oggi, sei stato bravo, e con me non c'era, era abbastanza duro sul lavoro, abbastanza, poche parole, pochissime parole di elogio, che sicuramente non mi meritavo, però, sai, per spronare, eccetera, e io gli rosicai tantissimo, tipo, mi ricordo che discutemmo proprio, cioè, ci discussi veramente anima, una delle poche discussioni animate nel mondo, cioè, una delle poche, una delle più forti che abbiamo avuto nel mondo della cucina, perché rosicai, gli feci, ma porco due, cioè, vengo qua per 20 euro, 15 ore al giorno, 6 giorni su 7, ma mi faccio un culo così, ho capito che non so fare un cazzo, lo so, lo sapevamo tutti, però, mai un cazzo di, oh, buono, bravo, continua così, hai fatto bene, mai una gratificazione, e lo chef, giustamente, mi rispose, Alessandro, ma te sei scemo nel cervello, bro, cioè, a 14 anni ce n'hai 20, cioè, che cazzo ti devo di bravo perché hai tagliato tre pomodori e due prezzemoli, e in realtà, vi racconto questa cosa perché è sempre stato un mio punto, come vi dicevo, nel, diciamo, il mio punto debole, una cosa che mi fa, non incazzare, che però mi fa, mi toglie voglia, ecco, secondo me lo è il termine, il termine giusto è mi toglie voglia, è il non ricevere gratificazione e non essere, non ricevere parole di riconoscimento per quello che faccio, specialmente nel mondo della cucina, questa cosa era molto, molto specifica nel mondo della cucina, e, cioè, le persone che, quando le aiuti, quando le, gli dai una mano, quando impegni al massimo, quando fai, quando provi, quando ci metti comunque tutto te stesso, e lo sai che le altre persone lo vedono, ecco, il non ricevere neanche una minima parola di gratificazione, a me spesso e volentieri, fa abbastanza tiltare, perché è vero che uno aiuta con, cioè, non è che aiuti per ricevere il biscottino del cane, o per ricevere il complimento, o per ricevere, che ne so io, la parolina, o il benestare di qualcuno, però è bello, perché io mi sono sempre impegnato, soprattutto, appunto, in cucina, al mille uno per cento, e mi spaccavo il culo per aiutare me, ovviamente, il mio lavoro, il ristorante lo lavoravo, verso il quale ho sempre avuto il massimo rispetto nelle mie leggi etiche e morali, e che consideravo come fosse mio, sempre, in qualsiasi ristorante, e quindi prestando la massima attenzione e cura, sia verso i colleghi e tutto quanto, e spesso e volentieri non, secondo me, al lavoro non ricevere anche quel... cioè, quella frase che ti fa capire che la persona che è sopra di te, o che comunque è al tuo pari, o al quale hai dato aiuto, è grata che tu l'abbia fatto, cioè, oh, bro, grazie, oppure, bravo, Ale, hai fatto un bel lavoro oggi, basta, cioè, non è che servono tappeti, fiore, cioè, magari una serata dove ti spacchi il culo, esci fuori e quasi vuoi piangere dalla fatica, ecco, a me basta una frase del genere per, diciamo, capire che ne è valsa la pena, ecco, passare attraverso tutte le fatiche, e questa cosa è sempre stata, diciamo, una sorta di mio punto debole, perché poi alla fine le persone, o per non curanza, o perché non, magari sono abituati a persone che non hanno bisogno di questo tipo di gratificazione, di questo tipo di, diciamo, di, anche di spronare, se vuoi, o semplicemente non se ne accorgono, appunto, ognuno ne frega nulla, mi ha portato a discutere almeno un altro paio di volte, poi nel mondo della cucina, una tra l'altro con mio zio pure, in Australia, prima, insomma, prima che andassi via, e quindi niente, questo, questo è un piccolo aneddoto con una parentesi un po' lunga, però nel primo ristorante in Italia non mi ricordo, in realtà, grandi cose, cioè non mi ricordo siano successe così tante cose, il ricordo più bello che ho forse è la pasta con, mi ricordo ancora, acciughe siciliane, olive taggiasche, i pisci questi, i pisci con, no, erano i spaghettini, no, erano i pisci, pisci con olive taggiasche, acciughe tipo siciliane, e pomodorini, confit, confit, cioè quelli al forno, tipo una sorta di canditura al forno, e in uscita sopra la pasta del pane grattato, grattato, tostato, con tipo scorza di arancia, una roba del genere, è sempre stata una delle mie paste preferite, ovviamente che faceva lo chef e che mi ha insegnato a fare, o comunque che era nel menù e quindi ogni tanto doveva aiutare la preparazione, e che mi è rimasta sempre, sempre nel cuore, e ho riproposto più volte, soprattutto la combo pane grattato, tostato, cioè tipo proprio saltare in padella il pane tostato con la scorza di agrumi, per aromatizzare la pasta, è stata una delle paste più buone che abbiamo mangiato, faceva sciogliere tipo le acciughine nella padella, non le lasciava intere, e ci faceva la crema poi con l'ami della pasta, ma buonissima. E al di là di quello, ma a specchio il ristorante lì, tra l'altro dopo due anni che io e lo chef siamo andati via, diciamo credo abbia chiuso, comunque ce l'hanno in gestione altre persone, quindi non è durato neanche tanto, ma in realtà era una cosa strana, perché era un ristorante da, doveva essere secondo me un ristorante che doveva stare aperto solo a pranzo, e la sera tipo Massimo fa le pizze da sporto, cioè perché era piccolino, c'erano tipo dieci tavoli al massimo dentro, nella saletta più avanti, il menù, quello che faceva lo chef quando ci lavoravo io era troppo ricercato per il tempo, per quella pizza, per quel tipo di locale, anche la posizione dove stava, e quando provano a fare lo switch, a far diventare hamburgeria, anche se in realtà era il periodo degli hamburger, cioè ci videro lungo su questa cosa, ma troppo poco tempo, troppo caos in generale per fare cose, poi era un ristorante che era gestito dai soci della palestra che era davanti, e quindi praticamente c'erano, mi ricordo così, a memoria, tipo 4 o 5 soci, di cui, anzi anche tipo 6 o 7, di cui almeno 4 che comunque gestivano anche il ristorante, e quindi arrivava uno e ti diceva una cosa, arrivava la moglie e ti diceva un'altra cosa, arrivava l'altro tipo e ti diceva un'altra cosa, l'altra tipa e te ne diceva un'altra, e quindi te, cioè era il caos totale, era veramente il caos totale perché non c'era un'unica direzione da seguire, eccetera, e era un po', era un po' caotica, però, comunque nonostante tutto, nonostante i loro sistemi, che ho capito poi essere un po' fuori dal mondo e pazzi a livello di gestione, nonostante tutto quanto, in realtà non, non erano, non erano cattive persone, anzi sono state molto bravi con me, e soprattutto mi hanno comunque dato la possibilità di iniziare, quindi per questo, al di là di tutto, gli sarò, gli sarò comunque sempre grato, sia lo chef che ha e che è proprietario di ristoranti, e poi che altro, beh, per chiudere i cerchi d'Italia, vabbè, il ristorante del, sul mare che, da cui mi licenziai, chiamando Facista il Tipo, lì, boh, mi ricordo semplicemente, mi ricordo molto il, beh, il piacere di avere tipo il Livorno e il Pisa a mangiare a pranzo e cena tutte le sere, il capitano Luci al tempo che magari quando la sera non aveva voglia di fare la tavolata con tutti i compagni, si veniva tipo a prendere la pizza da dietro in un ristorante, insomma, era bello, era bello, beh, capisco che, insomma, erano giocatori, l'altro mi sembra già in serie B, sì, mi sembra in serie B, erano in serie B e tipo il Pisa in C, se non sbaglio, quindi non è che si parla dell'Inter con Ronaldo, ovviamente, cioè c'era vantaggiato e Luci, però, da tifoso Livornese, ex frequentante della curva o comunque dello stadio in generale, era figo, era figo, poi a quel tempo tra l'altro allenava Gattuso il Pisa, quindi veniva sempre a cena con la figlia che mangiava, mi ricordo, solo aragosta, pranzo, cena, solo aragosta la figlia mangiava, solo aragosta, e quindi ogni tanto magari scappava l'aneddotino, un pochino più privato, piuttosto che un po', magari era un aneddoto riportato, modificato, eccetera, però era simpatico, era simpatico, era molto bello, e peccato per ovviamente la gestione, i pazzi, e anche se la cuoca, la chef del ristorante, che era la moglie del proprietario, a parte che avevano delle figlie che erano simpaticissime, che lavoravano come cameriere, erano, sono state mie amiche comunque per quei due, tre mesi che ci ho lavorato, uscivamo, erano sempre stra gentili, stra simpatiche, e me le ricordo con piacere, e la chef, la moglie del proprietario, era stronzissima, nel senso che era proprio, c'era proprio la faccia cattiva, nel senso sul posto del lavoro, ovviamente non lo so al di fuori, però era proprio, era sempre dura, sempre scontrosa, sempre con, mai col sorriso, veramente, veramente difficile, proprio pesante come aria, però anche lei mi ha insegnato tanto, mi ha insegnato tanto, soprattutto a livello di pasta, di gestione della pasta, di, di, di mare, di antipasti di mare, di, lavorazioni su prodotti di mare, e mi ricordo che, una cosa che odiavo terribilmente, era quando, faceva praticamente il sugo di mare, tipo la pasta allo scoglio, ok, però, invece di, in quel ristorante non era in bianco la pasta allo scoglio, ma era a sugo, e siccome era un ristorante dove c'era tanta, tanta gente, e il personale, come penso da tutte le parti d'Italia, o nella nostra grande maggioranza dei posti, sei, sottoripendente, nel senso che ti manca sempre qualcuno, perché si assumi, paghi troppo, bla 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 bla, e quindi fai fare, paghi un po' di più quelli che hai, gli fai fare un buco di culo enorme, almeno così funzionava un tempo, e c'era, ci preparavamo prima il sugo di mare, per lo scoglio, perché era anche allungato, era condito anche col pomodoro, cos'anzi pomodoro, e però questo sugo di mare andava sgusciato, perché facevi questo sughetto pronto, cioè pronto, nel senso, prefatto, e al momento che ti arrivava la pasta di mare, utilizzavi quel sugo in più a tipo cozze fresche, eccetera, da mettere sopra col guscio e tutto, però il sugo doveva essere completamente sgusciato, sia le vongole, sia le cozze, sia le arzelle, per dirle, telline, insomma, chiamatele come vi pare, e mi ricordo che la chef, senza alcun ragione, motivo, me lo faceva sgusciare quando era caldo, io quindi con tre paia tipo di guanti di lattice da cucina, con il sugo bollente, con la stanza di pomodoro bollente, a sgusciare queste cazzo di cozze e vongole, in maniera proprio insensata, perché il sugo sarebbe bastato lasciarlo tipo mezz'ora in più a raffreddare fuori dal frigorifero, sul bancone, e poi uno lo fa quando è tiepido e lo fa dieci volte più veloce, invece no, lì, ah, 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 cosa che ogni chef ha i suoi in realtà, quella cosa che secondo loro fa, quell'azione che secondo loro farla, tipo in quel caso sgusciare il sugo di mare quando era ancora lava bollente, vesuviana, oppure come vi dicevo nell'altro video, lo chef che ti obbligava a tenere il, il cucchiaio dal, praticamente dal, non dal manico ma dal fondo dove c'è proprio il cucchiaio per, per girare i sotto per farti capire che la cucina è sacrificio, ogni chef ha il proprio, ha la propria azione simbolo, ecco, si vede che per quella chef lì era appunto, era appunto sgusciare, sgusciare la pasta, il sugo, sgusciare le, le cozze, le vongole quando era, quando il sugo era ancora caldo e, completamente inutro, non ti insegna nulla se non a bestemmiare dietro e a odiare la persona sempre di più, anche perché il sacrificio in cucina non credo che tu lo impari con qualche forma di dolore fisico durante, durante il tuo lavoro di, di qualche tipo, lo impari semplicemente con organizzazione mentale, metodo, esperienza e abilità, serve, per farti, darsi fuoco, vivi per, per imparare che il fuoco brucia, cioè, vabbè, ehm, io non, non, non ne ho mai avuti di, di metodi, quando ho fatto l'head chef, di metodi per temprare qualcuno, qualche apprendista, o qualche dipendente, mai, mai fatto niente del genere, ehm, quello che facevo è, gli davo da fare i compiti più merdosi, tipo fare 6.000 kg di arancini, quello sì, chiaramente, ecco, quello, secondo me, è un buon sistema per far imparare qualcuno, ovvero, fai di fare un compito, ehm, che, concettualmente, è semplice, tipo, pelare le patate, o sbucciare le cipolle, o, rollare gli arancini, li chiamo arancini, non mi rompete i coglioni, ehm, quando il riso è pronto, perché? Perché, secondo me, anche se molti lo sottovalutano, quando iniziano a lavorare in cucina, compreso me al tempo, in Austria, quando riescono a pelare le patate, eh, perché dici, ah, lui non ha voglia di farlo, e lo fa fare a me, che sono lo stronzo, ni, nel senso, sì, perché è un compito di merda, ehm, però, perché succedono queste cose? Perché, innanzitutto, pelare le patate, rollare le arancini, questi tipi di lavori qua, sono lavori che ti bloccano, nella postazione, cioè, se, se io devo, appunto, fare tipo, 150 arancini, non è che posso fare altro, nel frattempo, perché ho le mani che ho sempre sporche, uguale le patate, non è che posso, posso far tanto altro, cioè, devo stare lì e pelare, ho tutte e due le mani occupate, ehm, e quindi questo, se c'è uno chef e un aiuto cuoco, blocca lo chef a pelare le patate, quando magari deve fare altre, mille altre cose, no, che però, lì per lì, quando inizi, non ci pensi che quello c'ha da fare mille altre cose, ehm, e poi perché questi lavori, di massa, in realtà ti insegnano la velocità, l'ottimizzazione, l'organizzazione, il sistema, perché magari ti parti con una patata, la prendi, la cosi, quando poi arrivi a mille patate, sai, come tenere in mano la verdura, come farla veloce, cosa ti serve, il bussolo direttamente per buttarci la buccia, oppure sotto, la, è capito, cioè, tutto il sistema, tutta l'organizzazione, secondo me, da questi compiti semplici, poi, capisci il sistema di, l'organizzazione per tutto il resto, che alla fine, è tutto uguale, cioè, ripeto, organizzazione, fare meno cose nel più tempo possibile, con la stessa precisione, e cercare di raggruppare i compiti, cioè, se ciò, se sto, io sono uno chef, e sto pelando le patate, perché sono solo in cucina, non è che posso solo pelare le patate, e dopo, magari, metto a fare il riso per gli arancini, metto a fare il riso per gli arancini, e poi, mentre cuocio, faccio le patate, ogni tanto mi giro a girarlo, cioè, ecco, quando arrivi a pensare a una struttura del genere, a capire cosa accorpare, per poi, appunto, arrivare pronto, al servizio, diciamo, è il punto, è il punto perfetto, e secondo me, questi lavori di massa, aiutano anche il metodo, in generale, comunque, al di là, appunto, delle cozze, mi ricordo, del ristorante, quello, del Pissedrivorno, dove veniva il Pissedrivorno, mi ricordo, vi ricordo, Pinzoglio, che fu picchiato, proprio fuori dal mio ristorante, presa schiaffi dai tifosi, della curva nord di Livorno, perché si, apparentemente, buttò, insomma, si capisce, se l'ha fatta a posto o a meno, presumibilmente no, ma, non si sa, il pallone in porta, facendo retrocedere Livorno, in un calcio d'angolo, proprio l'idea di tipo, uno schiaffo buttandosi in porta, no, ma non è, non è mai vista, cioè, nel caso in cui non l'avessi fatto apposta, penso, da radiare, proprio, dall'albo dei calciatori, invece, andò alla Juve, tra l'altro, e mi ricordo che a quel tempo cercavo, perché io, al tempo, abitavo, avevo già fatto qualche esperienza all'estero, come babysitter, come ragazza alla pari, ma, tornato in Italia, la situazione familiare, mio babbo e mia mamma, che sono separati da quando io ho tre anni, di mamma Valeria e babbo Giovanni, era, diciamo, un po' caotica, nel senso che c'era un posto letto, poi non c'era, da tutte le parti, poi sì, poi no, io, dissi, vabbè, sai cosa, c'è la mia vecchia camerina dai miei nonni a Livorno, vado da loro, però era lontano Livorno al ristorante, quindi, mi ricordo che iniziai a cercare i primi affitti, in zona tirrenia, d'estate, cioè, tirrenia sul mare, d'estate, quindi, impossibile trovarli, e fortunatamente, mi licenziai, tipo, penso, o meglio, la sera che mi portò a farmi licenziare, arrivò, proprio tipo due giorni prima che dovevamo firmare il suo contratto d'affitto, meno male che non lo feci, dovevamo andare a vivere con un'altra cameriera e la figlia del proprietario, insomma, come coinquiline, uscivamo sempre insieme, si era formato un bel gruppetto di amicizia, e fortunatamente mi licenziai prima di firmare il suo contratto d'affitto, se no era la disperazione totale, e questa è quella in Italia, la seconda esperienza in questo ristorante, io sto provando a pensare, qualche, qualche aneddoto lì, però, sono veramente ricordi lontani, e soprattutto, cioè, di, di proprio di scene divertenti, ce ne sono state, veramente, veramente poche, perché era un ambiente talmente pesante, che era impossibile ridere e divertirsi, quindi poco, e questo è quello in Italia, tra i primi più stati in Italia, e questo che vi ho raccontato, c'è la prima esperienza in Austria, e lì vabbè, in Austria, gli aneddoti si sprecano, sia dentro e fuori la cucina, è stato il periodo più pazzo, veramente, della mia vita, sia lavorativa, che fuori dal lavoro, per, insomma, due video fa, sapete bene cosa, droghe, via dicendo, è stato però, veramente tanto divertente, veramente, veramente, tanto divertente, l'Austria è stata, è stata qualcosa incredibile, che mi porterò sempre, dentro al cuore, proprio al massimo, all'estremo, ogni singola volta, non c'è, non c'è mai, non c'è mai stato un giorno di, diciamo, di down, di bassa marea, c'è sempre, c'è sempre, ogni giorno erano tsunami, dovunque, e, era bello il sistema in Austria, perché, io lavoravo in questo hotel, a quattro stelle, sotto, una delle montagne, appunto, più alte d'Europa, o meglio, una delle montagne, che ospitano, una pista scistica, più alta, e più famosa d'Europa, Monte Planai, la Schladming, e, d'inverno, c'era turismo, del nord Europa, di giovani, che venivano a bere, a sciare, a divertirsi, ed in estate, c'erano i vecchi tedeschi, che venivano a fare, i trekking, le passeggiate, il posto è bellissimo, se cercate Schladming, S-C-H-A-L-D-M-I-N-G, L-D-M-I-N-G, in Austria, lo vedete, c'è circondato da montagne, questo paesino, con laghi, cose, veramente, l'Austria è una delle cose, penso, uno dei luoghi più belli, che abbia mai visto in vita mia, dovunque vai, se devi andare, e ti fai tipo, dieci chilometri in macchina, rimani a bocca aperta, ogni singola curva, sia d'estate che d'inverno, e appunto, io vivevo, e lavoravo, nello stesso hotel, cioè, al piano terra, c'era la hall, e il ristorante, e al piano, al primo piano, oltre a qualche camera, di qualche, insomma, cliente, che veniva, ovviamente, ospite, c'erano anche le stanze del personale, cioè, persone da tutta Europa, che dormivano nell'hotel, stanze da tre, ma stanze, ragazzi, vi dico, farò una cosa che di solito faccio in live, vi dico, fate conto che la stanza era questa, entravi da qua, qua c'era la porta, ok, questo era il bagno, con la doccia, tipo così, il bagno qua, il cesso, senza il bidet, ovviamente, qui c'erano dei mobiletti, divisi in tre, perché era la camera da tre, poi, porta terrazzo, ok, che ti portava fuori a, non era un terrazzo, ma ora vi spiego, e poi qua c'era un letto, qua c'era tipo una schivania, qua c'era un altro letto, e qua c'era un altro letto, questa è la stanza, ma si parla veramente, di questo è il bagnetto, ma si parla veramente di, di poco, cioè di, di cinque passi, sei arrivato in fondo alla stanza, non so quanti metri quadri fossi, ma c'era letti, poi singoli, piccoletti, armadi piccoletti, non era una stanza spaziosa, era un micro corridoio, con un bagnetto, e fuori praticamente, Davi Sul, perché l'hotel era diviso, in tre blocchi, non giganteschi, però, insomma, comunque, ospitava fino a 380 persone, in totale, in tre blocchi, blocco uno, blocco due, blocco tre, e, dove sotto c'era la hall, poi appena, appunto salivi, c'era questa terrazza, tipo con sassi, con i giochini per i bambini, con una piscina per l'estate, per dire, c'era la spaz, una di questi, in cima di questi blocchi, insomma, comunque un bello hotel, e, e fuori appunto c'era questo terrazzino, con questi, con le stanze confinanti, dove uno, sedia, c'era tavolini, e, e quindi noi dormivamo a gruppi di tre, in queste stanze per il personale, e in più, oltre a quello, c'erano, vabbè, gli armadietti, dove ti facciano trovare sempre il camice pulito, e trovavano loro la divisa, i pantaloni no, il camice sì, e poi c'era un'altra stanzina, in mezzo a queste camere, con ingresso indipendente, dove c'era una micro doccia, e una lavatrice per 30 persone che lavoravano lì, e che dormivano lì del personale, 30 no, ma una ventina sì, quindi avevamo una lavatrice in 20, e poi questo micro, proprio questa microscopica cucina, che era più piccola di questa stanza, per farvi capire, ora non vedete, ma è piccola sta stanza, anche di qua, dove c'era un tavolino, appunto questo cucinotto, un frigorifero, che era la stanza del personale, c'era la cucina del personale, dove la mattina ti ritrovai a prendere il caffè, dove la sera ti facevi un drink, dove, insomma, stavi la sera insieme, anche perché poi in Austria, d'inverno, c'è, meno 11 gradi, quindi fuori, sì, ci puoi andare a fare serata una volta, però lavori tutto il giorno, è lavoro stagionale, quindi spacchi il culo, dormi in quell'hotel, la sera ti serve un luogo, dove stai in compagnia, un po' e ritrovo la sera, ed estate, ed estate è uguale, cioè, d'estate, magari, più che dentro la cucina stavi fuori, si organizzava tipo le tavolate fuori, senza, tra l'altro, stando sempre ovviamente nel proprio, senza esagerare, senza far casino, anche perché, c'erano gli ospiti poi, davanti alla cucina del personale, c'era tipo, appunto, la ghiaia, lo sterrato, la stradina, con le mattonelle, e poi c'era l'altra struttura, con le camere, quindi, e pure lì accanto, c'erano camere, quindi con gli ospiti che pagavano, quindi non è che potevi fare, non lo so, il barbecue così, in mezzo all'hotel, cioè, devi stare un po' nel tuo, un po' nascosto, un po' senza dare disturbo, e senza schiamazzare, e in questa cucinata del personale, va bene, è successo, è successo veramente di tutto, io mi ricordo, era, il sistema era incredibile, perché questo video sarà lunghissimo, bro, lunghissimo, a 34 minuti sarà lunghissimo, ce ne ha troppi, al massimo faremo una parte due, e praticamente, diciamo che il sistema, o comunque l'ecosistema dell'hotel, era, era molto unico e particolare, allora, innanzitutto, pensate che, è gente che spesso e vent'è, ritorna in varie stagioni, ok, come io ne ho fatte tre, ci sono persone che, quando sono arrivato io, c'erano già da tre, ne hanno fatte altre tre con me, no, o tipo quattro, cinque, sei, quindi è gente che si conosce, si pari che conosce, e poi comunque, al di là di qualcuno dello staff, che magari c'ha il casso in affitto, vive fuori, o vive per i cazzi suoi, o c'ha la moglie, quindi, cioè, comunque passi, cinque, sei mesi, sempre, quasi tutti i giorni, a contatto, gli uni con gli altri, e quindi si crea questa sorta di community, di comunità, no, lavorativa, che condivide anche, specialmente, l'ambiente, dove dormi, dove mangi, dove fai lavatrice, eccetera, eccetera, e quindi, è tipo un micropaese di montagna, all'interno di un albergo, quindi, si sprecano le situazioni di gossip, di, di gente che si scopa, poi si lascia, poi si rosa, poi si va, poi, gente che è con la moglie, che prova, gira con il cameriere, il marito, che va con la, un, veramente, un, un macello infinito, proprio, un casino, un caos totale, e, e a rendere ancora, il tutto quanto, più caotico, e folle, era, ovviamente, la questione, internazionalità, cioè, qua io ho fatto, tre stagioni, tre, quattro stagioni, colleghi, italiani, spagnoli, portoghesi, olandesi, norvegesi, svedesi, danesi, tedeschi, austriaci, cieco-slovacchi, albanesi, rumeni, bulgari, ungheresi, polacchi, russi, francesi, inglesi, cioè, veramente, ogni stagione, c'era tutta l'Europa, e non solo, là dentro, quindi, immaginate, con, i modi di fare, con i sistemi, con le abitudini, completamente diverse, quanto, fosse, diciamo, difficile unire, tutte le varie culture, no? Non che sia ormai successo, Scopati Casini, però, era proprio, cioè, ognuno, aveva il suo modo, di razionarsi, di gestire i tempi, le abitudini, eccetera, quindi, era proprio tutto un caos, era tutto strano, tutto caotico, ma era bello anche per quello, e, vabbè, nella cucina, io mi ricordo che, nella cucina di solito, eravamo, era composto da, me, Speedy, che era uno che, chiamato Speedy, perché era lentissimo, che era tipo, un aiuto cuoco, che è rimasto, aiuto cuoco, per sei, sette stagioni, tipo, sette, otto stagioni, non mi ricordo, nello stesso hotel, quindi, cioè, proprio duro come il muro, ma non gliene fregava, proprio un cazzo a lui, lui voleva rimanere lì, io ho fatto tipo, aiuto cuoco, poi l'anno dopo sono avanzato, poi quello dopo ancora, e quello dopo ancora, avanzando anche con lo stipendio, lui invece ne fregava un cazzo, lui voleva far su, il meno indispensabile, il più lento possibile, quello era Speedy, e era tipo, lui, slovacco, croato, non mi ricordo, no, forse era, sì, era il croato, vabbè, poi c'era Radek, che era il suo chef polacco, Marcus, che era il chef austriaco, e Christian e Tomasz, che erano ungheresi, lavapiatti, insieme a Gabor, e poi, vabbè, a seconda della stagione, a David portoghese, David Briau, chiamato Briau, perché era sempre Briau, e, anzi, Briau, con l'accento portoghese, e, e poi, nelle varie stagioni, c'era David lo spagnolo, poi c'era il mio amico Simone, il mio amico Lorenzo, che ho portato io, c'era, c'è stata una, tipo, una vecchia polacca, di 70 anni, tipo, super strana, altri lavapiatti, altri euticuochi, insomma, di tutto e di più, però il corre era quelli, quelli che vi ho detto, e, e, e al di là, appunto, delle, come vi raccontavo, due video fa, dei primi, delle prime difficoltà, se volete andare a recuperare, le prime difficoltà di, di, diciamo, di inserirsi nel sistema, e di farsi conoscere, poi, quando una volta che si sblocca la situazione, c'era, proprio, una fratellanza assoluta, di tutto, in tutto e per tutto, dentro lavoro e fuori da lavoro, stavamo sempre insieme, al di là, proprio, della, diciamo, del luogo che ti costringeva, a stare insieme, ma andavamo a casa dello chef, pranzavamo di qua, di là, cena, serate fuori, nei posti più, più assurdi, incredibili del mondo, e, e, e oltre al sistema della cucina, c'erano anche poi il sistema camerieri, cioè, la, la community camerieri, che anche loro, beh, non male erano sempre gli stessi, c'era, c'era Gabor grande, e Gabor piccolo, Gabor piccolo chiamato Kicci, Gabor, il nome ungherese, entrambi ungherese, Kicci, che in ungherese vuol dire piccolo, c'era Maria, insomma, c'erano varie, varie, varie personalità, ecco, ognuna, ognuna un po' pazza, non so, Gabor grande, mi ricordo che era tipo, un ungherese stratifoso del Barcellona, veniva sempre, ogni giorno, al lavoro alla madre del Barcellona, ovviamente no durante il servizio, perché lì dovevano vestirsi con gli abiti dell'Osterreich, gli austriaci, tipo i leather hose, le camicie quelle a quadretti celesti o rosa, e bianche, celesti, bianche e rosa, e, però insomma, ecco, non solo per la cucina, ma anche il mondo della sala, insomma, si erano creati questi due mondi, che a volte un po' cozzavano, perché c'erano partito camerieri e partito cucina, che, te sei stronzo, no te sei stronzo, no te sei stronzo, più andiamoci a cazzotti, ovviamente metaforicamente, e, e va bene così, io diventai molto amico di Kicci, tra l'altro passavamo ogni sera insieme, tra vodka e playstation, nel cucinotto del personale, veramente, mio padre, e, arrivando agli aneddoti, dopo tutta questa, questa grande premessa, arrivando agli aneddoti, tipo, ve ne sparo qualcuno rando, mi ricordo che, c'era questo grandissimo e divertentissimo scherzo in cucina, dove, noi durante il servizio, se volevamo fare i bravi, ci bevevamo tipo una coca, una coca cola, ovviamente, in un bicchierone, e la coca cola ha, lo sapete che colore ha, no? Ha quel, quel nerastro, marrone scuro, non so, e lo scherzo più gettonato, incredibilmente divertente, di quella cucina, è che, quando uno aveva, era troppo indaffarato, e non notava che aveva il suo drink di coca cola, passava un altro, e ci buttava dentro il tabasco, che è una sostanza molto piccante, quindi te poi, tipo, lo so, magari non respiravi, tipo, da un'ora dal lavoro, tornavi alla postazione, dentro la cucina, vedevi il bicchierone di coca cola, e facevi, ah, buono, via, e morivi, e questo, a tutti quanti, quindi, cioè, ogni volta, che bevevi, tipo, o lo finivi e non lasciavi lì, oppure, lo dovevi controllare contro luce, davi un sorzino, insomma, poi, però spesso, te lo dimenticavi, e quindi, ci rimanevi secco, questo era un grandissimo scherzo divertente, mi ricordo, questo è quando facevamo i bravi, quando non volevamo fare i bravi, quello che facevamo è, dieci minuti, prima che il villa, il supermercato austriaco, chiudesse, il minimarket austriaco chiudesse, che tra l'altro, avevamo la fortuna di averlo, proprio, sotto l'hotel, quindi noi, dalla cucina, prendevamo l'ascensore, andavamo almeno uno, che usciva nel parcheggio dell'hotel, e di questo minimarket, dove di solito fumavamo, insomma, in un parcheggio, diciamo, sotterraneo, ma all'aperto, cioè con, tipo, appena sotto a livello della strada, e, entravamo nel villa, prendevamo, tipo, due bottiglie di vodka, la Red Bull Tarocca, a 40 centesimi, e, invece di, bere acqua durante il servizio, ci sparavamo, questi bicchierazzi di vodka, e Red Bull, tenendo ovviamente tutto nascosto, perché non si poteva vedere, quindi mettevi il bicchiere di vodka dietro, tipo il pacco di riso, dovevi che queste furberie qua, per speziare la serata, ecco, quando ti aspettavi una serata un po' più caotica, un paio di bicchiere di vodka Red Bull, e andava tutto più liscio, e, bro, cioè, è assurdo, come in quel cazzo di posto, tra alcol, droghe, leggere, pesanti, di tutto e di più, da parte di tutti quanti, camerieri, gente in cucina, ma, veramente, io, non voglio esagerare, ma vi dico su 40 persone, almeno 30, o bevevano, o si facevano entrambi, nei vari metodi, modi e sistemi, non c'è mai stata una cazzo di sera, dove è entrata la proprietaria dell'albergo, o la dirigenza in generale, i padri padroni, a dire, fra, ma che cosa avete fatto, un casino, mai, è sempre andato, tutto, perfetto, questo non vuol dire che drogarsi, ovviamente bere, ti fa lavorare bene, però, è proprio per me inconcepibile, che in un sistema così, terrificante, non sia mai successo, del caos assoluto, tant'è, e, è assurda sta roba, e, mi ricordo, ma, c'erano tantissimi di aneddoti, in cucina, la nostra, non so veramente da dove partire, a parte che imparai, a fare, mamma mia, io credo che la cucina tedesca, sia una delle cose più buone del mondo, anche più di quella italiana, non dico completa, perché quella italiana, al pari di quella francese, è di una, ha una completezza incredibile, a livello di piatti offerti, la cucina tedesca, è molto limitata, mamma mia, ma i piatti tipici tedeschi, sono incredibili, e no, non sono solo i Wuster, ce ne sono tanti, andate a studiarveli, e, mi ricordo che lo chef, mi insegnò a fare, lo Schweinbraten, che era, la pancetta di maiale, cotta, cioè, Schweinbraten, non mi ricordo se c'è un nome, però, mi viene in mente Schweinbraten, mi pare sia quello, che era cotta, nel forno, a 60 gradi, per tipo 6 ore, coperta di birra, con tutta una speziatura, marinatura particolare, io ragazzi, non ho mai mangiato, una cosa più buona di quella, mi hanno insegnato a fare, le Wiener Schnitzel, le bracioline, le viennesi, quelle che, le cotolette milanesi, che però, in realtà, le Wiener Schnitzel, hanno un senso, ancora maggiore, perché a parte che sono, gigantesche, vengono servite, di solito, con patate lesse, e marmellata di, di amarena, se non sbaglio, di frutti di bosco, amarena, forse è una amarena, non mi ricordo, e soprattutto, e vengono fritte, soprattutto, quella originale, è di vitello, e viene fritta nel burro, olio più burro, e ragazzi, non provate a farla a casa, perché se mettete l'olio, tipo, di se mi gira solo il burro, vi esplode la padella, cioè, deve averci una tecnica particolare, perché altrimenti inizia a fare schiuma, e va tutto fuori, oltre a tantissimi piatti, tipici tedeschi, quelli che, i serviette noodle, quelli che noi chiamiamo, i canederli, il pane, no, se avete noodle, forse era, non mi ricordo, si va a caracanedri, c'era il nome del pane, tipo, era una sorta di, di mollica di pane, con spec, spezie varie, messa nella, come si chiama, nel, tipo, fatto tipo un roll, con la plastica, e fatta bollire, qualcosa di gigantesco, veramente buonissimo, insomma, di tutto e di più, ora non vi sto a far vedere, però, ho imparato molto, ho imparato molto, non nello specifico del piatto, cioè, non nel, carbonara la facevano tipo affogandola nella panna con i peperoni, per dire, ovviamente, non impari quello, però impari a fare, a impanare appunto mille braciole fritte in due ore, a tagliarle, a impararle, quello impari, e quello ho imparato fondamentalmente, quindi il massimo proprio, la massima concentrazione su un lavoro, ripetuto, che sembra infinito, e che invece, alla fine poi te lo fai in mezz'ora, o impari a farlo in mezz'ora, da quanto cazzo sei veloce, perché diventi una macchina, praticamente, e, e mi ricordo, tante cose non posso raccontarvi, in realtà, perché sono, proprio, gossip di gente che lavorava lì, e eviterei, insomma, nel loro rispetto di tutti, non che mi seguano, perché, parla nessun italiano, però, nel loro rispetto di tutti, insomma, succedono varie cose, mi ricordo, mi ricordo una volta, dove, ci doveva essere, era inverno, una situazione invernale, ci doveva essere un meeting, tipo, con la direttrice dell'hotel, e la cucina, e ci voleva portare, a bere, il, il vino caldo, che è, insomma, una bevanda tipica, anche del nord Italia, insomma, ma anche, anche dell'Austria, ovviamente della Germania, nei posti freddi, come si chiama, non mi ricordo, e, tipo, il pomeriggio, scelse, scelse un pomeriggio, dove, bene o male, tutti eravamo liberi, e andammo a prendere questo, questo vino caldo, e, mi ricordo che, prima di questo vino caldo, lo chef Marcus, mi disse, vieni, vieni, vieni in stanza con me, che facciamo una cosa, in stanza con lui, e, e si presentò, con questo, bong, bong, gigantesco, dove, io mi ricordo, non lo fate ragazzi, è fra il marzo del cielo, me lo racconto, perché, mi fa ridere, dove, io feci una tirata, e, mi annichili, completamente la vita, non capivo più un cazzo, e, c'era questo cazzo di meeting, con, con appunto, la direttrice e suo marito, tipo, e, io mi ricordo che, mentre camminavo in salita, verso il centro di questo paese, dall'hotel, verso il centro del paese, con tutti davanti, cioè, mi sembrava proprio di essere dissociato da me stesso, di camminare sulle nuvole, ero gonfio come un culo, e, arrivai, arrivai lì a, lì al tavolo, dov'è, mi, mi misi a sedere, completamente, bianco, cadaverico, non capivo un cazzo, e, fissai per tipo, 20 minuti così, la direttrice, tant'è che, a un certo punto, lei si ce la mi fece, Sandro, alles good? Cioè, tutto bene? T'ha posto? Mi stai, o mi stai fissando da 20 minuti? E io, in panica totalmente, le feci tipo, no, no, mi sento male, sto per vomitare, e me ne andai, tipo, il giorno dopo, no, perché sai la febbre, rinottata, veramente, cioè, il momento più sbagliato per fare quelle cose, con la tipa, no, sì, non ti preoccupare, capisco, succede, è successo anche a me una volta, mi ridacchiava nel frattempo, sgamato, come un coglione, con lo chef che mi prendeva per il culo, ovviamente, e, mi ricordo che, invece, Lorenzo, un mio amico di Pistoia, che portai io a lavorare lì, una stagione, tipo, l'ultimo dell'anno, se non sbaglio, lui dormiva in camera con Radek, il su chef polacco, quello con cui all'inizio, sai che poi diviene, un caro amico, e, si ubriacò, si ubriacò completamente, il mio amico Lorenzo, e si addormentò, si addormentò, sotto la doccia, la notte, con la doccia aperta, e Radek arrivò, tipo, un'ora dopo in stanza, e trovò la stanza, che c'ho la moquette, completamente allagata, e, e io stavo piangendo, da ridere, perché, mi venne a chiamare, tipo, mi fece, ah, il tuo amico di merda, ha fatto un casino, e io mi misi a ridere, di in faccia, porco due, con quello che era tutto rosso, come un peperone, ah, ah, schaise, 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 e con l'acqua, che non sape che era tutto allagato, mamma mia, che disastro, mi ricordo che ci facevamo gli scherzi, tipo, ehm, c'era il collega spagnolo, David, ma, questo Radek aveva tipo, 38 anni, questo collega spagnolo, c'era una 42 passa, eh, che una sera andò a farsi una scappatella, con una cameriera, che tra l'altro era sposato, vabbè, lui pure era sposato in Spagna, un macello, come vi ho detto, e, e praticamente, quando uno, eh, di, della stanza, che erano da tre, però diciamo che, erano vicini tra i tre, delle persone della cucina, quindi erano, tipo, una stanza, una stanza attaccate, e, e, dove uscivi dalla porta terrazzo, insomma, c'era, era tutto, eri lì accanto, quindi potevi bussare da fuori, da dentro, e, cazzo tipo, e, quando uno dei componenti di queste due stanze, quindi uno dei sei, se ne andava per i cazzi soli da solo a fare qualcosa, eh, era la fine, cioè, ti rientravi in camera, e, lo scherzo più scherzo del mondo, questo è tipo il tabasco in cucina, eh, che era sempre uguale, non cambiava mai, non cambiava mai, cioè, te lo sapevi che succedeva, lo dai per scontato, perché te tornavi e trovavi tutte le tue cose sul letto, tutte, tutte, cioè, da sedie, materasso, la scrivania sul letto, la sedia sopra la scrivania, sopra la scrivania, le scarpe, sopra le scarpe, l'accendimento, cioè, venivano fuori queste torri gigantesche di robe, eh, di, eh, di, di, appunto, di oggetti che venivano messi nel letto, e io mi ricordo che una sera questo, David uscì con questa tipa, tornò tipo la notte ubriaco marcio, che non capivo un cazzo, eh, e non capendo un cazzo, e non credo, o accettando semplicemente, o non capendo nulla, eh, si mise a dormire, si mise a dormire, a sedere sulla sedia, sopra il letto, cioè, non è che arrivò ubriaco, spostò la sedia dal letto, eh, e che ovviamente qualcuno gli aveva messo, Radek e io, eh, e, e si mise a dormire sul letto, ma, lui, lui montò in piedi sul letto, con la sedia che stava appunto sopra il letto, e si mise a sedere sulla sedia sul letto, a dormire così, e la mattina lo trovammo, lo trovammo così, che dormiva sulla sedia, non so come non fece a cascare, vabbè, eh, roba, roba senza senso, e, mi ricordo, eh, mi ricordo, fuh, cosa ti posso dire, ah, Babbo Natale, lo chef della mattina, un ungherese chef, che lui faceva solo i turni di mattina, a parte uno che era il giornalibro, che se lo scopriva lo chef nostro, Babos, era un ungherese, con un buzzo gigantesco, e con i baffoni che sembrava Babbo Natale, e mi ricordo perché, eh, aveva questa, questa andatura lentissima, che camminava strusciando le ciabatte, e, e una volta, eh, diciamo che l'episodio, ognuno di noi aveva un episodio famoso, no, per il quale veniva preso per il culo, eh, e, questo Babos aveva, eh, un episodio dove, un, una mattina si presentò ubriaco a lavoro, il suo turno iniziava alle quattro di notte, perché era ovviamente la colazione, tipo, le buffe della colazione apriva alle cinque e mezzo, e chiudeva tipo alle dieci, e quindi lui aveva un'ora e mezzo per dover preparare tutto, o comunque, insomma, con quello che si era avvantaggiato il giorno prima, però, era, e arrivò a lavoro completamente ubriaco, e, e lo trovò, lo trovò la direttrice dell'hotel alle cinque di mattina, quindi tipo, tipo un'ora dopo il suo ingresso, sdraiato al centro ristorante del, nell'area buffet, con un tavolo di patate lesse rovesciato addosso, che dormiva con le patate lesse rovesciate addosso, cotte, è una roba, delle leggende, proprio, gigantesche, gigantesche, e, il mio, il mio episodio per il quale venivo preso per il culo, quale cazzo era? Il mio episodio per il quale venivo preso per il culo, e, sai che non me lo ricordo? L'avrò memorizzato, l'avrò, l'avrò, cancellato per, ah, io ve ne ho preso per il culo per il numero di volte in cui vomitavo, cioè, c'era il record ogni stagione, perché, voi immaginate comunque, la maggior parte dell'est Europa, di colleghi, quindi comunque gente che è, è culturalmente abituata a bere, e già i liquori basi, tipo il nostro amaro del capo, per l'ora è la palinca, che è, è tipo, vale, un cucchiaio di palinca vale 100 litri di amaro del capo, a livello di, di, di gradazione di pesantezza alcolica, e in più, sono di solito persone che bevono, non è che sono tutti alcolizzati, però comunque ce l'hanno proprio di cultura di bere la vodka, soprattutto in Polonia, in Ungheria, figuriamoci, e tutti super alcolici, quindi il confronto, io no, non sono mai stato, tra l'altro neanche un gigantesco bevitore, di solito, cioè, nelle serate, i miei due o tre drink, stavo nel chill, cioè, poche volte ubriaco, e quindi quando arrivi lì, cioè, ogni sera, ogni sera io vomitavo, cioè, in periodo arrivai a una stagione, a fine di una stagione, che durava cinque mesi, lavorativa, dove io vomitai, tipo, 26 volte, cioè, 26 sere diverse, io arrivai a vomitare, e senza contare quelle in cui non vomitavo, cioè, questo per farvi capire, e non erano serate ovviamente, dove dici, mamma, ti stai distruggendo la vita, cioè, a volte, per stare ai loro ritmi, dovevi verti, tipo, sei shot di vodka, bro, ma sei shot di vodka, se non sei abituato, ti struttano certe due, sei già gallina, e quindi mi prendevo per il culo, perché ogni stagione, mi chiedevano, se io appunto avrei aumentato o meno il record, e, in realtà, io feci, a un certo punto, ci fu il record al contrario, cioè, quante meno serate riesci a non vomitare, e finì, la mia esperienza in Austria, da 26, iniziai con 26, e finì la stagione con 13, quindi, dimezzando, la mia, la mia vulnerabilità, così si può dire, veramente, veramente terrificante, e, mi ricordo, scusate se sbadiglio, ho dormito un cazzo, mi ricordo, ehm, fatemi pensare, però dentro non mi sono preparato niente, mi piace andare così a memoria, quelli che mi vengano a mente, mi ricordo, perché ci furono varie serate, dove, dove rischiamo di, fare a botte, in discoteca, e dove misero una foto segnaletica, mia e di Radek, il polacco, ehm, fuori dall'ingresso, della discoteca del paese, che si chiamava Tennis, ehm, perché, tra l'altro, cioè, non è che eravamo risosi o cose, però ci troviamo in una situazione, hanno visto a fare tutto il racconto, ehm, dove, dove scattò una mezza rissa, e i buttafuori presero noi, ehm, e, e siccome non è la prima volta, che, che succedeva, o che facciamo casino in generale, o che eravamo particolarmente, ehm, animati, per così dire, eh, non da, violenti, eh, cioè, proprio tipo, briaie, pazzi, eh, ci fecero la foto a me a Radek, tutti, via, così, e la PC erano fuori dal paese, fuori dal locale del, del paese, per non farci più entrare, così che il buttafuori, eh, quando appunto arrivavi a fare la fila all'ingresso, si girava, vedevi si era nella foto, eh, quindi sono stato nella Hall of Fame dei bannati di quel posto, è una cosa di cui mi vanto. e, mi ricordo, mi ricordo, beh, le mie esperienze con, vabbè, camerieri un po' da, da dimenticare, queste magari ve le lascio per un altro video, ecco, secondo me non siete ancora pronti, voi di YouTube, chi segue su Twitch già le conosce, della cameriera ungherese sposata, di quella volta che mi sborrei nella mutande senza neanche tirare fuori il pisello, insomma, queste cose qua, della tipa che è puzzata, insomma, tante, tante, tante esperienze divertenti e simpatiche, e, e nello specifico in cucina, ovviamente non vi sto raccontando le cose, cioè gli episodi brutti, nel senso, cioè le cose che vedi e fai, smetto di lavorare domani, cioè tipo, il, David portoghese che andò a, c'era una salamandra in cucina, la salamandra è, è una sorta di, di macchina da tosso super potente, cioè è praticamente un, un, un piano, e sopra c'è una sorta di piastra, ma che è fuoco, proprio lava, per gratinare velocemente le cose, ok? E, e quello, mentre stava tirando fuori una cosa, la, la, c'è dette questa, eh, questa, questa piastra, eh, e, che era tipo, si chiudeva così, eh, e gli cascò sul braccio, questa, mamma mia, tutta la pelle squagliata, che gli filava, rimasta attaccata, una roba veramente che, eh, se sei un po' sensibile, la vedi, smetti proprio di lavorare il giorno dopo, diti tagliati, diti volati via, sberci, mi ricordo uno, si pianta un cortello nella coscia, no, non da ubriaco, eh, c'è per, eh, tipo, stava lavando questo coltello, gli scivolò dalle mani, per, per non saperlo, di solito quando ti cade il coltello in cucina, che sia un coltello da un miliardo di euro, da un euro, soprattutto quelli, da coltelli, quelli ovviamente per tagliare verdure, per lavorare in cucina, quello che fai non è che lo prendi al volo, cioè quello che fai, cioè ti tiri indietro e alzi le mani, cioè lo devi lasciare cadere, il coltello, tra l'altro se è un buon coltello, cadrà dalla parte del manico, perché è più pesante il manico, e, e mentre quando ti giri, per esempio, lo devi tenere appoggiato alla coscia, ehm, piatto così con la coscia, mentre, mentre giri, ovviamente devi dire behind, behind, dietro, 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 toccare sulle spalle, devi far sapere sempre a tutti in cucina, dove sei, dove si stai muovendo, perché se no, è un attimo che, due si girano e succede il disastro, e, e questo lavapiatti, non è che non aveva esperienza, però magari lì per lì non ci pensò, non essendo un cuoco, non lavrando quei coltelli, gli scivolò mentre lavava questo cazzo di coltello, che era il coltello di uso comune della cucina, perché gli chef di solito se li lavano da soli, no di solito, sempre se li lavano da soli i coltelli, gli scivolò, e invece di tirarsi indietro, provandola a guantare, tipo, lo presi in un modo e se lo infilò nella coscia, così, in mezzo al servizio, contro 160 persone, quello, ooooh, col coltello nella oscia, cioè, disastro total, e, vi ho raccontato qualche altra cosa, già nell'altro video, la serata che feci, con il mio amico Simone da solo, nella pazzia, mi ricordo, gente che dormiva nei frigoriferi, tipo, Spidi, Spidi, lo trovavi, cioè, era tipo un gatto, fondamentalmente, cioè, quando c'è i gatti in casa, che una volta le vedi dormi qua, una volta sopra la lavatrice, una volta sotto il letto, è uguale Spidi, cioè, una volta lo trovavi a dormire nel frigorifero, una volta lo trovavi a dormire in mezzo a sacchi di pasta, una volta nascosto dalla farina, una volta, invece che nel piano dei frigoriferi, e dello storage, insomma, della dispensa, la trovavi tipo in quello dei camerieri, in mezzo alle birre, a dormire, ogni tanto andava, e si faceva una mezz'oretta di sonno, e dov'è Spidi? Boh, non si sa, cioè, perdevi più tempo a andarlo a cercare, che lasciarlo dormire mezz'ora, fondamentalmente, quindi quando lo trovavi, cioè, davvero scontato che se stessi dormendo da qualche parte, speravi che arrivasse il prima possibile, però non c'era, nonostante fossero questi elementi, nonostante la pazzie e la folia di alcuni, che in altri contesti non avrebbero mai lavorato, sarebbero stati licenziati dopo un minuto, si era creato talmente tanto affiatamento, e talmente tanto gruppo, con preferenze, con chi ti piacere più o meno, che, cioè, non snitchavi, capito? Se Spidi dormiva mezz'ora, mi importa una sega, però, cioè, lo faccio io il lavoro di Spidi per mezz'ora, perché è Spidi, cioè, e lui sicuramente faceva lo stesso con me, e quando magari andavo a fumare due sigarette in più, rispetto a Pippa, cioè, al tempo, chiaramente, lo sapete, vi ho raccontato tutto, se no sembra, sembra, sembra tutto detto così, e, e va bene così, andava bene così, una volta offriva la bottiglia di vodka Radic, una volta io, una volta Marcus, una volta Spidi, era sempre a rotazione, era, era bello perché era, era, era anarchico, caotico, ma, con un senso comune, che è un po', il senso di ogni cucina, e di lavorare in cucina, cioè, questa sorta di unione, questa sorta di, di partita di League of Legends, dove sai benissimo che, sì, magari una volta la puoi anche carriare da solo, ma, su, su cento partite, devi giocare di squadra, perché attivanti la partita non la vinci, ed è bello, è bello perché lottate tutti per un obiettivo comune, che appunto arriva a fine serata senza, senza far disastri, e, in Austria, ma sai che, aspettate, datemi un secondo, beh, nel caso schippate, mi fico un cazzo, perché io, tempo fa, le vedemmo anche in live, trovai tipo delle foto, delle foto particolari, di un vecchio, di un vecchio, hard disk, però mi sa che non c'era l'Austria, mi sa che non c'era, Irlanda, Olanda, Australia, no, mi sa che l'Austria, non c'era nelle cartelle, peccato, perché se no qualche foto, qualche foto ve l'avrei fatta vedere, ve l'avevo fatta vedere volentieri, sono andato alla vacanza Australia, no, prima o dopo, eh, aspetta che forse, forse, per darvi anche un po' di contesto visivo, è memorabile la mia foto, con la bottiglia di vodka sopra la testa, a fine della prima stagione, come a coronare, come a coronare appunto, l'essere riuscito a finire, una stagione, la prima e una stagione in Austria, con tutti i nuovi colleghi, con tutti che mi fecero l'applauso, cioè, proprio l'ultimo giorno della stagione, e io mi singinocchio, con questa bottiglia di vodka, che comprai io come regalo per tutti, i colleghi della cucina e della sala, per, insomma, per avermi dato una mano, per avermi accettato, accolto, insegnato, protetto, e, e, diciamo, per ringraziarli, e tutti a parlare applauso, è una sorta di incoronazione da cavaliere, e, molto, molto bella, vabbè, non le trovo, poi nel caso, se le trovo, ve le farò vedere poi, e, dai, direi che Austria, va bene così, va bene così, che sto pensando, sto pensando, ma, ce ne sono veramente, veramente tanti, davvero, so che, sembra la classica cosa a dire, ce ne sono tanti, ok, dine qualcuno, però, non so fino a che punto posso spingermi a raccontare, quindi, mi sto tenendo un po', un po' prima, un po' prima, ecco, un po' prima, e poi c'è l'Australia, l'Australia, dove, è stato forse, il periodo più sereno, e più tranquillo, nell'ambiente lavorativo in cucina, anche perché ormai avevo una certa esperienza, a parte i primi otto mesi, che vi raccontavo nell'altro video, con lo chef pazzo, quando poi andai a lavorare a Figo, Hellwood, Melbourne, che era il ristorante di proprietà di mio zio, e un altro ragazzo di Vorno, e, fu, fu, una bellissima esperienza, terminata con un malessere infinito, soprattutto per quella cosa che vi diceva all'inizio, della gratificazione, e via dicendo, però, quella era veramente una famiglia, quella era veramente una famiglia, una seconda famiglia, siamo stati evidenti per due anni e mezzo, i soliti, io, io, Pelo, che era Valerio, il pizzaiolo, e Riccardo in, o ricordo, perché si scordava le cose, in sala, con mio zio che veniva a dare una mano, e poi i vari camerieri, i vari cuochi, i aiuti cuochi che giravano, e Randy e Venki, due ragazzi indiani, a lavare i piatti, cioè, si, facevano lavapiatti e delivery, cioè, consegnavano e lavavano i piatti, ed è stato proprio il momento, secondo me, più bello, perché proprio, entravi a lavoro, e entravi in famiglia, cioè, sapevi ormai, cioè, era proprio chiacchiera libera, parlavi di tutto, sapevi che potevi parlare di tutto, sapevi che potevi confidarti, è stato proprio bello, poi, ovviamente, anche nel caos e nel disastro lì, è perché, ci fu la volta che tirai una padellata sulla schiena di pelo, lui che, che mi tiltò, adosso a me una volta, mi tirò una busta di gamberi, c'era Fausto, in pizzaiolo, in pizzeria, che era, questo ragazzo siciliano, questo ragazzo, questo uomo siciliano, perché baciava 30 e passa anni, forse quasi 40, che abitava in Australia, che sta ancora in Australia, e tipo, da 5-6 anni non parla una singola parola di inglese, ed era tipo un tipo super ansioso, soffriva anche dall'opecia, proprio per questa questione di ansia, e, piccoletto, minuto, col nasone, e mi ricordo, e mi ricordo che una delle prime sere, che dopo aver fatto la prova, lo lasciarono solo tipo il lunedì sera, per dare il giorno libero a pizzaiolo, a Valerio, e mi ricordo che, il lunedì sera, perché era il giorno meno, caotico della settimana, e, e invece quel lunedì sera, lo distrussero di pizze, c'erano solo pizze, lui non ci stava capendo più nulla, a un certo punto, a un certo punto mi ricordo che, mi girai, e, e gli dissi, Fausto, tutto bene, e lui tipo si girò, con la goccia, con una goccia, con un'unica goccia di sudore, ma gigantesca, che gli colava del viso qua, non ce la faccio più, non ce la faccio più, beh, veramente gigantesco, Fausto, e, che si diceva tra l'altro, avesse avuto una tresca, con Niccolò, un cameriere, anche lui, insomma, varie, varie, varie storie, poi io con mio zio, insomma, chi ha seguito le live su Twitch, dove abbiamo fatto la scarrellata, degli eroi australiani, che magari li posso anche riproporre, qua su YouTube, anche, anche da solo, cioè, io e mezzio abbiamo questo modo di scherzare, dove, per una persona random, che anche se vedremo una volta sola, o comunque, che vediamo nel quotidiano, gli diamo un soprannome, gli creiamo una storia, una leggenda alle spalle, che ovviamente è tutta inventata, e quindi, tutti questi personaggi, da Crass, il bomber della merda, i fratelli Travaso, Frank, Pelo, Ricordo, Rinaldo, poi c'era, il bomber della merda, c'era, The Real Pork, c'era Pastrami Mate, veramente, di tutti e di più, voce, c'era voce, c'era Puzzo, c'era Chef Puzzo, Chef Bamba, c'era Fiato, le balene, insomma, di tutti e di più, un po' di comicità livornese, con questi soprannomi, nomignoli, appessa per il culo, ma bonari, ovviamente, c'era una persona comunque, che o non conoscevi, o a quale volevi bene, però prendevi in giro, per qualcosa randomico, e, insomma, ci facevamo delle risate, veramente, gigantesche, ed era, è stato molto, molto bello, mi ricordo che ci furono delle serate, comunque, folli, veramente, perché io di solito, in cucina ero da solo, tra nel fine settimana, venerdì e sabato, che mi vengono a dare una mano, un aiuto cuoco, random, o chi mi dava il giorno libero, che lavorava insieme a me, anche il venerdì e il sabato, perché, io dovevo fare, antipasti, fritti, paste, secondi, dolci, tutta la cucina, tutta la cucina, praticamente, roba abbastanza semplice e veloce, ci mancherebbe, però a volte, soprattutto il sabato sera, con gli ordini d'asporto, e, la gente in sala, non lo so, c'era tipo, 50 persone al ristorante, che il massimo, tipo, era 60, 70, non mi ricordo, 50 persone al ristorante, a sedere, c'era anche la pizzeria, per l'amore del cielo, e, tipo, gli ordini d'asporto, magari, mi ritrovavo con 30, 40, paste in comanda, cioè, in diverse comande, da fare una dietro l'altra, di fila, così, per due o tre ore, e mi ricordo che, a volte, succedevano anche i giorni infrasettimanali, le serate pesanti, ero da solo, con i lavapiatti, che, come vi dicevo prima, facevano anche i delivery, gli uscivano a consegnare, gli ordini di takeaway, ordinati dal sito del ristorante, nostro, e, e quindi, a volte, mi ritrovavo, tipo, con 60 paste, in ordine, quindi, da fare, e, e, mi dovevo, tipo, dovevo fare la pasta, e dovevo andarmi anche a lavare la padella, nel frattempo, quindi, c'è scene di tilt, di, di perdite di pazienza, di, di foglia assoluta, e, poi, ho lavorato veramente con tutto e di più, cioè, mi ricordo, UE Capita, era un pizzaiolo, che, vi giuro ragazzi, cioè, entrava a lavorare, dopo un'ora di lavoro in pizzeria, sembrava, sembrava fosse scoppiata una bomba, di, di, di farina dentro il ristorante, c'è proprio il disastro totale, quindi, quindi, veramente un caos, e, la cosa che, in realtà, mi ha portato, vabbè, al di là di iniziare Twitch, e via dicendo, però, anche prima di iniziare Twitch, io già ero al limite del, del, del mio percorso in cucina, e, soprattutto, di quello, di quel ristorante in Australia, perché, praticamente, nonostante fossimo una famiglia, c'era, secondo me, un gigantesco gap, di, diciamo, di interesse, verso il posto di lavoro, cioè, io lavoravo veramente, come se fosse mio, sì, è vero che era di mio zio, ma, non era mio, cioè, non c'avevo niente a che fare, però, era, io lo vivevo proprio come se fosse il mio ristorante, eh, da head chef, e, e quindi davo il mille uno per cento, ogni singola volta, cioè, ore in più, cose in più, eh, eh, veramente di tutte, di organizzazione, pazienza, eh, lavoro, aiutare gli altri, eccetera, mentre gli altri, spesso e volentieri, nonostante fossero delle bravissime, bellissime persone, nonostante, fossero anche dei bravissimi lavoratori, staccano, cioè, gente che lavorava duro, gli mancava proprio quella, quell'interesse, quella precisione in più, eh, che, che avrebbe aiutato tutti quanti, e quindi, c'è tipo, a volte tiravano la roba messa lì, a volte facevano uscire la roba un po' più, un po' più, sti cazzi, e la pizza è venuta male, ci importa una sega, e il frigorifero non lo mette a posto, perché tanto, boh, magari c'è lo stronzo che lo fa, chiaro io, e, e quindi, questi, questi scompensi, diciamo, organizzativi, e di, eh, cura nel proprio lavoro, nella perfezione del proprio lavoro, creavano spesso e volentieri dei litigi, e, e soprattutto, il sistema, almeno quel sistema lì in Australia, a quel istante lì, funzionava, nella maniera più, australianamente sbagliata possibile, nel senso che, l'Australia, essendo, essendo un, un continente con, con, con i visti, e quindi avere un visto per, per poterci stare, per poterci lavorare, c'è gente che viene e che va, cioè ragazzi giovani che vengono, vanno, vengono, vengono, e quindi ogni settimana, tipo, eh, nuovo cameriere, nuova cameriera, eh, magari facevo, insegnavo io tutto il lavoro, aiuto cuoco, due settimane dopo se ne andava, tipo a Sydney, eh, per fare le farm, eh, oppure se ne andava in Italia, eh, e quindi c'è, ogni mese, dovevi imparare, dover iniziare, a insegnare tutto, a preparare tutto, e quindi poi c'era il primo turno da soli, eh, di chi mi dava il giorno libero, che era un disastro, e quindi il giorno dopo tornavo, che era tutto disastroso, e poi c'è la gente che mente sulla propria esperienza, e tutti quelli che sono venuti in prova, bro, eh, c'era uno, mi ricordo, eh, c'era uno che arrivò in prova, un signore di 42 anni, siciliano, che arrivò in prova, aiuto cuoco, eh, e tipo, nessuno lo conosceva, lui si andò a cambiare, eh, ah no, prima entrò in cucina vestito tipo normale, fece, ok, sono pronto per la prova, non, non, non lo so che non era gay, però parlava così, c'ho un figlio tipo divorziato, con un figlio in Italia, meno quello che ci ha detto lui, e io gli feci, sì bro, vatti a cambiare, cioè, poi lavorare a coco, lo so, con i jeans, la miscia in cucina, eccetera, c'era in camice, ah sì sì, vado vado, e tipo rientrò, e fai, rientrò, dal, dal, dal stanzino dove ci si cambia, alla cucina, saltellando, facendo tipo, uh, che bosche, sono molto felice, sono in prova, sono in prova, noi non l'ho mai visto e conosciuto, cioè io, e vale il pizzaiolo che ci guardammo, cioè, per non riesco a più a ride, e questo ci disse, tipo nei primi cinque minuti di prova, ehm, si fermò e ci disse, no, perché sapete, io sono separato, ho un figlio, eh, a carico in, in Italia, ma non, non sapendo, eh, lavorare, non avendo trovato lavoro in Italia, eh, sono dovuto venire in Australia per mantenere, eh, per mantenerlo, e poi, eh, uso gli psicofarmaci, questi sono i primi cinque minuti di, 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 che ha fatto tutto da solo, eh, uno che non ho mai tagliato, quindi c'è, veramente di tutti di più, quello che arriva che puzza come un animale, quello che arriva che, che, che si vede che è strapippato, pippa la bamba nello stanzino e si fa beccare, quello che si fa consegnare, l'aiuto cuoco alla bamba, nel ristorante davanti a tutti i clienti, ehm, quello che sbaglia a fare l'impasto, e, e, e butta via, una serata intera di pizzeria, perché ha sbagliato a metterla qua nell'impasto, è veramente, la follia assoluta, però, l'esperienza in Australia mi ha ha menzionato tanto, la cucina nel senso proprio a livello pratico, a livello italiano, di cibo italiano, di cultura italiana, aggiustata ovviamente a gusti un po' australiani, e ho sempre testato l'idea di, di voler modificare il gusto a proprio, a mio, a mio personale piacimento, a meno che non si tratta ovviamente di ricette classiche, che va, che sono vendute come ricette classiche, e vanno fatte classiche, però, se io per esempio nel ragù bolognese, ci metto, lascio le verdure grosse, metto, lo dicevo l'altro giorno in live, mezzo spicchio di limone, ci metto l'origano, metto la pasta ragù in uscita, mi ci piace il prezzemolo e l'olio all'aglio sopra, io mi porto una sega, se, se il ragù non è così, o non è italiano, se c'è l'anana sulla pizza, se è buono non lo mangio, e infatti grazie a questo, questa apertura, verso il gusto, e verso la non tradizionalità, strettissima del mangiare, soprattutto a casa, mangiai il pizzaiolo, Valerio, mi fece una delle pizze più buone che abbiamo mangiato, ovvero, base, base della pizza fatta al forno elettrico, quindi tipo cromana, non napoletana, e, con sopra, un'insalata, mozzarella, cotta, e poi in uscita, sopra un'insalata di lattuga maionese, e gamberi saltati, con succo d'arancio, oppure col pol, mamma mia, gigantesca, gigantesca, una delle cose più buone che abbiamo mangiato, e, e per il capitolo australiano, vi devo fare un periodo, un, un, un video a parte, per forza di cose, perché non ce la faccio a raccontare tutto, non ce la faccio a raccontare tutti i personaggi che hanno gravitato intorno a quel mondo lì, perché poi ogni singolo aneddoto si rifà a un personaggio, cioè, crazie, il, il macellaio che portava la carne, e l'unica cosa che diceva era, si già faceva, crazie, cioè, io vi devo raccontare che tipo era, che era, come era, cosa faceva, dove è venuto, cosa ha fatto poi, le foto di Crazzi, e via dicendo, quindi, non ce la faccio in questi video, sono già un'ora e venti, e, sì, in realtà non è stato proprio un video di, di aneddoti, cioè, di, 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 di roba, un mix di, di roba strana, e, spero, vi sia piaciuto, io direi, vi fermo qua, nel caso ne faccio un altro, anche perché non è venti di chiacchiere, non ne faccio più, vi, ve ne faccio un altro, solo per la, solo per l'Australia, oppure, vi posso raccontare, per esempio, degli aneddoti, di quando ho fatto Ragazza la Pari, in Olanda, in Irlanda, anche lì ce ne sono, di storie simpatiche, e, chiaramente, per quanto io, avete visto il video sulle droghe, il video della cucina, eccetera, sia aperto, sia sereno, nel parlare di tutto, ci sono alcune cose, che non, non è che sono mie personali, però, magari coinvolgono persone, o, e quindi, non riesco ancora a esprimere, così liberamente, come magari potrei fare su Twitch, eh, per assurdo, non, su Intergena, cioè, senza invadere la prevese di nessuno, ovviamente, al di là, vabbè, se mi chiede, che Radek pippava, nel senso, vai a sapere chi cazzo è, un suo chef polacco, chissà dove, chissà come, chissà quando, però, ecco, senza andare nello specifico, nel dettaglio, di ognuno, e rimanendo comunque sempre, simpaticamente, scherzosi, certe cose ancora, diciamo che non sento di condividere su YouTube, forse fra un po' di video, vediamo un po', e quindi sono venuti un po' più risicati, effettivamente, gli aneddoti, tra l'altro mi ricordo che in Austria, stavo quasi per diventare uno YouTuber, al tempo, quindi quando c'evo vent'anni, quindi quattordici anni fa, volevo diventare uno YouTuber dei ristoranti, pensate te, pensate voi quanto c'è, ero avanti, e io avevo una GoPro, al tempo venivo dal mio periodo come fotografo, avevo una GoPro, e praticamente durante, filmati persi purtroppo, durante i miei servizi la sera, io mi mettevo la GoPro, tipo in testa, sul cappello, o davanti, e mi filmavo, mentre facevo tutto il lavoro in cucina, poi non ho più, non ho mai, non ho mai avuto un PC in Austria, quindi quando tornavo poi in Italia, non avevo voglia di montare, e sono andato i persi, purtroppo, perché se ne erano dei video gansissimi, ora penso che lo facciano in molti in realtà, su YouTube ad oggi, queste cose qua, tipo un GoPro, action cam, più o meno cheap, però al tempo, 14 anni fa, sarebbe stato sicuramente qualcosa di unico, e va bene, va bene, chiudiamo qua, dai, ci vediamo al prossimo video, non so quale sarà, non so come sarà, spero che vi abbia intrattenuto questo, vi abbia fatto compagnia in quel modo, tanto alla fine l'abbiamo capito, che il senso non è sapere cosa è successo a me, ma il senso è avere un sottofondo per voi, grazie per aver seguito fino a qua, grazie per i commenti, mi piace, le visualizzazioni dei video passati, grazie, ci vediamo al prossimo, ciao!